Sarà l'attore Luigi Locascio ad aprire la dodicesima edizione dello Sciacca Film Fest, il festival che ha lo scopo di promuovere e favorire la diffusione del cinema in programma alla multisala della Badia Grande dal 29 agosto al 1 settembre. Giovedì 29 agosto l'attore vincitore del nastro d'argento per l'interpretazione nel film Il Traditore sarà a Sciacca con un doppio appuntamento. Luigi Locascio durante la giornata inaugurale dello Sciacca Film Fest infatti presenterà il suo primo libro dal titolo Ogni ricordo un fiore, ma anche il film in uscita che lo vede il protagonista, Il Mangiatore di Pietre. Ospite della serata d'apertura dello Sciacca Film Fest, anche il regista del film Nicola Bellucci, documentarista alle prese con il suo primo lungometraggio di fiction, un thriller che racconta la storia di Cesaro, un ex trafficante di uomini che in cerca dell'assassino del nipote si ritrova a trasbordare illegalmente rifugiati in Svizzera. Lo Sciacca Film Fest quest'anno affronterà i temi dell'attualità. Si parlerà di confini fisici, simbolici e sociali e sul modo diverso di concepirli. Il Comitato Organizzatore della Manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, che quest'anno per la prima volta non avrà il supporto del patronne Sino Caracappa, da alcuni mesi assessore della Giunta Valenti, sta definendo gli ultimi dettagli del programma che sarà ufficialmente presentato nei prossimi giorni. Da oggi è possibile abbonarsi allo Sciacca Film Fest, che quest'anno si finanzia grazie al sostegno di spettatori e sponsor privati.